La sezione rossa ha bloccato i comandi dell'ascensore. Per riaccenderli ti serve il computer nell'ufficio della sicurezza. Ricevuto. Non piazzarla vicino al camion! Non c'è tempo per spostarla! Arriva qualcuno! ...dicuo! 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 Vado a controllare. 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 Versaglio localizzato. Sparate! Vado a controllare. 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 Lecky, qui è Red Jack, è mio. E allora farlo fuori, stai mettendo in pericolo l'intera operazione. I vestiti di Red Jack sono di Kevlar. I proiettili gli scivolerebbero addosso. Dovrai uscire prima o poi. Il portatorio è finito. Teresa, l'obiettivo Red Jack è stato eliminato. Teresa, sono l'ascensore di manutenzione. Sai dirmi niente sul bersaglio nome in codice Black King? Ci sto lavorando. Leon, mi ricevi? Teresa, ho perso il contatto con Leon. Con te si è fatta viva? Negativo. Ho perso il contatto dieci minuti fa. Forse stanno disturbando il suo segnale. Quando riesci a chiamarla, avvertimi. Io vado giù. Logan, chiudo. Sono l'ascensore. Grazie per la visione! 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 Puta struzza! Quello era il mio ultimo dollaro! Andiamo! 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 Teresa, sono nell'ascensore della sicurezza. L'ufficio di Freeman è al piano superiore. Stai per entrare in una sezione top secret della ChemSynth. Sono pronto. Ancora nessuna notizia di Leon? Niente. Merdo.